Musica Buongiorno a tutti ragazzi sono Saintsgame8 e questo video lo faccio perchè ho deciso di cambiare un po' le cose perchè un video al giorno mi sono reso conto che non andava bene tra i miei impegni e tra che non lo guardavano in tanti ho deciso di cambiare le cose ora vi spiego se non seguite questo video non va bene va bene ve lo metto in descrizione comunque lunedì continuo le missioni di Saints Row 2 e faccio pure Saints Row Online cioè Saints Row 2 Online carico tutte e due praticamente faccio le missioni a meno che è vero posso fare un video soltanto con la missione e con l'online si si bene ragazzi basta non mi era venuto in mente questo qua allora si lunedì missioni Saints Row 2 e Saints Row 2 Online martedì niente libero mercoledì la serie di Mercenari 2 Mercenari 2 giovedì libero venerdì la canzata con il mio amico sabato libero e domenica Ned for Speed verano che ne pensate eh? capito? e vediamo qua io comando io decido io faccio tutto ho